Benvenuti al nostro Tg delle 14. In apertura c'è la manifestazione della col diretti contro il caro gasolio e contro le ripercussioni che sta avendo la guerra in Ucraina. In tanti allevatori e imprenditori agricoli si sono ritrovati davanti alla prefettura. L'iniziativa organizzata appunto dalla col diretti chiedono il sostegno del governo. È stato anche presentato un documento al prefetto Cappetta, documento che la col diretti ha dato un po' in tutte le prefetture italiane. Ricordiamo il mese scorso la manifestazione anche a Isernia. Ci dice tutto Anna Maria Di Matteo. Hanno risposto in tanti all'appello alla mobilitazione lanciato da col diretti che in mattinata ha organizzato una manifestazione davanti alla prefettura di Campobasso. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto al quale è stato consegnato un documento con richieste ben precise rivolte al governo centrale. L'agricoltura ha già messo a dura prova danni di abbandono e disinteresse da parte di chi governa. Il paese ora vive momenti drammatici a rischio, tante piccole e medie aziende. Oltre 400 associati hanno risposto. Ecco, questo è preoccupante. Gli agricoltori adesso dovrebbero stare nelle loro stalle, nelle loro aziende, invece sentono la necessità di scendere in piazza perché veramente siamo a un punto di non ritorno. Ci saranno da fare scelte molto molto importanti. Purtroppo dopo la pandemia speravamo che la situazione potesse, se non tornare al 100%, a una percentuale sostenibile. Purtroppo questa guerra, questa guerra veramente maledetta, ha evidenziato tante carenze, tante carenze anche strutturali del nostro paese Italia. E qui l'agricoltura noi riteniamo possa continuare a fare la sua parte, ma non è certo lavorando al di sotto dei costi di produzione che è pensabile che l'agricoltura possa continuare a dare, a fornire il cibo ai cittadini. Perciò alle istituzioni chiediamo di immediatamente sbloccare tutti i finanziamenti già previsti. E qui a sostegno degli agricoltori? Sì, siamo in prima linea questa mattina per sostenere e supportare l'agricoltore e gli allevatori in tutte le loro sfaccettature. Al momento Rosolone, che è uno dei primi paesi per l'allevamento e per la pastorizia, che stiamo subendo gravi problemi economici, e non so se ci sarà un futuro proficuo per questa categoria. Molti giovani in agricoltura hanno deciso di investire e costruire il proprio futuro. Molti giovani che sono anche tornati nella propria terra, alle proprie radici, per investire in agricoltura. Il Molise offre come futuro quello di investire in agricoltura. Noi chiediamo alla classe politica che ci lasci investire in agricoltura. Meno burocrazia, tempi veloci delle misure del PSR, perché un giovane agricoltore non può aspettare i tempi della politica. Il bando 2017, ormai sono passati quasi cinque anni, ci sono dei giovani imprenditori che ancora aspettano i soldi. Perché lei è qui stamattina? Per portare la nostra voce in quanto riguarda i costi che ci sono stati, l'aumento delle materie prime e tutto quanto. In quanto il nostro latte viene alla stala a 46 centesimi, mentre l'energia elettrica, mancimi e quant'altro è raddoppiato, anche il triplicato diciamo, e non facciamo più fronte ai pagamenti che ci sono. Quanto è difficile continuare a fare impresa? Tantissimo. Adesso, dico la verità, sono molto preoccupata perché abbiamo un'azienda abbastanza grande e mio figlio non ce la fa più andare avanti e ha deciso di chiudere. L'aumento esponenziale dei costi energetici di quelli delle principali materie prime che si registra da oltre un anno oggi ulteriormente, alimentato dagli effetti del conflitto, sta mettendo a dura prova le aziende dell'edilizia con rischio di un imminente blocco delle attività. Lo afferma il Presidente Lace Mance Molise Corrado Di Niro, evidenziando una situazione ormai fuori controllo con prezzi alle stelle e materiali introvabili e nel contempo provvedimenti normativi del tutto insufficienti. In queste condizioni, aggiunge, non è possibile più lavorare né rispondere alle gare perché i prezzi sono totalmente inadeguati e l'aumento straordinario in atto presto comporterà un fermo totale non solo dei nostri cantieri ma anche dell'indotto degli impianti di produzione dell'intera economia regionale e nazionale, conclude Di Niro. Indirittura ad arrivo il piano regionale dei trasporti dopo l'incontro con i sindaci. Oggi l'assessore regionale Quintino Pallante ha incontrato parti datoriali e sociali. In poche settimane il piano prima in giunta e poi in consiglio regionale per l'approvazione. Sentiamo Pasquale Di Bello. Piano dei trasporti indirittura ad arrivo, a dirlo è l'assessore regionale a ramo Quintino Pallante che nelle ultime ore ha riunito prima i sindaci e oggi le parti datoriali e sindacali per completare il confronto necessario ad inquadrare il tema in ogni suo aspetto. La regione Molise si sta dotando di questo strumento importantissimo, l'ultima versione del 2002 quindi un periodo abbastanza lungo. Abbiamo per fortuna avuto modo di interagire con il ministero attraverso la RAM e attraverso diverse università. Dovremmo redigere questo piano entro la fine del mese, peraltro per input della comunità europea. Tutte le regioni dovranno dotarsi di questo strumento per consentire l'utilizzo di finanziamenti europei senza il quale strumento si rischia di perdere i finanziamenti. La regione Molise per fortuna si è ravviata per tempo, quindi è tra regioni virtuose. Dovrà chiudere, come dicevo, poc'anzi entro il 31 marzo. Questa è la fase di consultazione. Ieri abbiamo avuto un incontro costruttivo con tutti gli amministratori locali della provincia di Sernia e della provincia di Campobasso. Oggi incontriamo delle organizzazioni sindacali di parte datoriale e ovviamente rappresentative delle categorie di lavoro. Al termine di questa consultazione il piano è naturalmente veramente in dirittura d'arrivo, passerà al vaglio dell'aggiunto e poi, come io spero, al vaglio del Consiglio. È uno strumento davvero importante dentro il quale si tracciano le direttrici di sviluppo e l'interazione con il mondo del turismo, le necessità di spostamento, gli sviluppi, l'interazione oggi anche per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda l'ambiente. Quindi è veramente uno strumento importantissimo. Non a caso la comunità europea lo ha posto come precondizione per far arrivare altri finanziamenti. Chiuso il quadro delle interlocuzioni, il documento verrà sottoposto all'attenzione dell'Aggiunta regionale, poi inviato all'Aula del Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione. Un risultato, quello al quale Pallante ha lavorato, atteso da tempo in Molise, che permetterà alla regione di usufruire di uno strumento aggiornato e che corrisponda alle necessità degli utenti. Minacce pesanti anche di morte, quelle che un uomo rivolgeva alla ex nuora. Non aveva mai accettato che la casa coniugale nell'appartamento sotto il suo fosse stata assegnata a lei dopo il divorzio. Ammazzo prima lei, poi lui aspetto e gli tiro una spranga di ferro in testa, alcune delle frasi con cui le si rivolgeva, secondo quanto denunciato dalla donna, che ha detto di vivere in costante preoccupazione per la sua incolumità. La donna ha lasciato l'abitazione per tutelare le figlie, ma ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno acquisito chat, messaggi vocali, testimonianze per verificare le minacce che pare venivano rivolte. Dall'ex suocero, quando la incontrava, l'uomo è stato contestato il reato di estorsione aggravata, il GIP del Tribunale di Campobasso, su richiesta della Procura, ha disposto la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offese e dai suoi congiunti e di dimora nel comune di sua residenza. Misura cautelare eseguita dai carabinieri di Mirabello nei confronti dell'uomo. Inaugurazione oggi dell'anno giudiziario della Corte dei Conti in Molise. La questione sanitaria, ma anche altre situazioni come la carenza di personale e i fascicoli, istruttori pendenti al centro delle relazioni, una cerimonia che si è svolta online a causa del Covid. Sentiamo. Inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Molise. La cerimonia online, il risultato di amministrazione della regione, sebbene concretizzatosi in un disavanzo formalmente inferiore di 40 milioni a quello dell'esercizio precedente, risultato sostanzialmente non veritiero e peraltro superiore rispetto a quello di altre regioni italiane in rispetto alla popolazione residente, un passaggio della relazione del presidente della sezione regionale di controllo Lucilla Valente. Per quanto riguarda le spese dei gruppi consigliari regionali, quattro sono state le dichiarazioni di irregolarità con obbligo di restituzione degli esborsi contestati. Resta la sanità il punto più debole dell'economia regionale con una situazione definita complessa con il costante, irrisolto e crescente indebitamento che non mostra segni di miglioramento e ci sono criticità. Tornando ai conti della regione, la gestione di competenza potenziata per l'anno 2020 ha chiuso con un saldo negativo superiore ai 45 milioni di euro, saldo in controtendenza rispetto a quello positivo dello scorso anno, con un peggioramento di oltre 50 milioni di euro rispetto al 2019. Valente ha annunciato nuove forme di controllo, più rapide per evidenziare eventuali irregolarità gestionali e contabili, inerzie o ritardi che possano impedire interventi di sostegno di rilancio dell'economia in atto. Il procuratore regionale della Corte dei Conti, Salvatore Nicolella, ha evidenziato poi una pesante situazione di giacenza dei fascicoli a causa soprattutto di carenza di personale. Al 28 febbraio i fascicoli struttori pendenti erano 2.684, quasi 100 in più rispetto a fine anno scorso. Tra le vicende trattate dalla Corte dei Conti, che riguardano enti locali, particolarmente rilevante è stata quella che ha coinvolto inizialmente 11 persone, tutte appartenenti alla compagine regionale, con un'ipotesi di danno erariale per mancata attivazione del progetto sperimentale per il monitoraggio della spesa farmaceutica. L'importo inizialmente contestato era di 9 milioni di euro. Nelle settimane scorse è arrivato un atto di citazione per 335 mila euro, con il coinvolgimento di due persone archiviate le altre nove posizioni. E adesso il bollettino dell'ASREM con i dati Covid in Molise. Sono 270 nuovi positivi riscontrati su 1.866 tamponi refertati tra molecolari e antigenici. Tasso di positività al 14,4%, sono 179 i guariti. Da registrare un ricovero in anziano fragile e un dimesso da malattie infettive, restano 22 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli. Dei nuovi positivi 59 sono di Campobasso, 50 di Termoli, 19 di Sernia, 15 di Venafro. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Gli attualmente positivi in Molise sono 6.102. La firma sull'accordo per la fabbrica delle batterie a Termoli può arrivare da un giorno all'altro. Mancano solo i dettagli e quanto emerso dal vertice tra governo, stellantis e sindacati. Fa piacere che si facciano ulteriori passi avanti anche rispetto alla definizione di accordi già presi delle parole del ministro Giorgetti. Sentiamo Andrea Nasillo. La firma sull'accordo per la realizzazione della fabbrica delle batterie a Termoli è imminente. E' emerso questo dal vertice stellantis al ministero dello sviluppo economico. Solo dettagli e la sigla del patto tra il governo e il colosso dell'automotive per la costruzione della Gigafactory sarà cosa fatta. Si attende il perfezionamento da parte della joint venture di cui stellantis è parte. Come ministero dello sviluppo economico e come governo abbiamo generato un segnale importante al settore automotive. Prossima settimana ci saranno interventi operativi da parte del governo a sostegno di tutta la filiera di cui stellantis è parte integrante, essenziale e importante. Fa piacere che si facciano ulteriori passi avanti anche rispetto alla definizione di accordi già presi. Lo ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti al tavolo stellantis alla presenza di aziende e sindacati. L'incontro di ieri a cui hanno preso parte anche il vice ministro del Mise Gilberto Picchetto e il ministro del lavoro Andrea Orlando è stata occasione per confrontarsi sul piano industriale ed esaminare le conseguenze che il conflitto in Ucraina ha nel settore. Dobbiamo fare tutti uno sforzo, azienda, sindacati e governo, perché entriamo in una fase delicata a causa dell'aumento dei costi e per la difficoltà di reperire materie prime. Dobbiamo essere consapevoli, ha proseguito Giorgetti, che questa situazione avrà ripercussioni nel medio e lungo termine. Continuiamo a lavorare per rendere operative in tempi brevi le misure che servono al settore e accompagnare, ha concluso Giorgetti, tutta la filiera in questa transizione. E il futuro di Stellantis e della fabbrica di Termoli al centro della puntata di ingresso libero in onda. Questa sera alle 21 in studio con Andrea Nasillo ci saranno i sindacalisti Francesco Guida e Marco Laviano, oltre a due dipendenti dell'insediamento produttivo della città adriatica. Si parlerà anche di nucleo industriale con il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, e il presidente del COSIB, Roberto Di Pardo. Spazio anche alla sanità con l'intervista al presidente della regione Donato Toma, dunque l'appuntamento con ingresso libero su Telemolise questa sera alle 21. Presidio dei lavoratori questa mattina davanti ai cancelli della VBAC di Termoli. Vogliono garanzie per il futuro. Sentiamo ancora Andrea Nasillo. Non vedono garanzie per il futuro, non sanno se ci saranno investimenti per il sito produttivo di Termoli. I lavoratori VBAC questa mattina hanno manifestato il loro malcontento. Sciopero di due ore giornaliere per ogni turno di lavoro nella giornata di oggi. Un atto soprattutto simbolico. All'interno della fabbrica del nucleo industriale prosegue la cassa integrazione ordinaria, stabilita per 13 settimane. Ma gli operai vogliono certezze, bisognerà necessariamente provvedere e sostengono. Alla sostituzione delle caldaie e all'ammodernamento degli impianti, se si vuole che la VBAC di Termoli torni ad essere competitiva. Si sentono però presi in giro e costretti a rinunciare anche alle somme integrative. Sono in cig e i motivi non convincono i dipendenti. Non sappiamo se dobbiamo aspettare questi lavori prospettati il 23 dicembre, se dobbiamo aspettare gli ordini che in realtà poi non sembrerebbe manchino, oppure dobbiamo cedere l'integrativo di nuovo. Questa volta di 5.500, perché altrimenti non riparte. Quindi questo che stiamo facendo oggi è solo un modo per poter colloquiare con l'alta direzione, con la proprietà. A differenza di altre scadenze di integrativo, dove praticamente si andava a ridiscutere l'integrativo per avere ulteriori aumenti, e all'azienda non abbiamo chiesto un euro in più. L'unica cosa che abbiamo chiesto è di mantenere in essere congelato l'integrativo attuale, tenendo presente che sono già 5 anni che andiamo con lo stesso integrativo, senza mai ridiscuterlo, senza mai chiedere un euro di aumento. I rappresentanti di settore di CGL, CISL, Will e CONFAIL, le RSU, tutti uniti in quest'azione, aspettano di sentire la voce dell'azienda, sollecitano anche le istituzioni del Molise a trattare con VBAC, per raggiungere una soluzione condivisa che riguarda il destino di 200 famiglie. Siamo qui perché vogliamo un dialogo, questo è quello che praticamente vorremmo, la chiarezza perché siamo fermi, non c'è stata mai data. Noi ci siamo informati e quindi sembra che la Regione gli abbia dato 3 anni di tempo per sistemare gli ambienti, quindi possono tranquillamente ripartire anche in queste condizioni. L'unica cosa che aspettano la firma è che noi praticamente rinunciamo all'integrativo per 3 anni. Quindi ogni volta che si presenta questo rinnovo cercano di calpestare la nostra regnità. Torna nell'aula del Consiglio regionale il tema della guerra in Ucraina ha presentato una mozione dei consiglieri del Partito Democratico Fanelli e Facciolla che prevede misure di accoglienza e sostegno ai profughi. Sentiamo ancora Pasquale Di Bello. Diventa purtroppo inarrestabile il flusso dei profughi provenienti dall'Ucraina, un teatro di guerra sul quale continuano le ostilità. Dopo una prima trattazione avvenuta la scorsa settimana sul fronte della solidarietà è arrivata in aula del Consiglio regionale una mozione a firma dei consiglieri del Partito Democratico Michela Fanelli e Vittorino Facciolla attraverso la quale si impegna la regione a un doppio livello di interventi, il primo sul fronte interno delle misure di accoglienza. Ci sono due blocchi di proposte che facciamo. Uno chiaramente riguarda quello che in Molise si può fare per i profughi ed è quello più concreto ed importante. Un altro invece guarda un po' il panorama nazionale, al sostegno alle azioni che il Governo nazionale sta intraprendendo. Il primo, le tessere di libera circolazione per chi arriva, il sostegno alle misure sanitarie a partire dalla vaccinazione, l'aiuto per la permanenza perché esiste un sistema di accoglienza ma hanno bisogno di ulteriori aiuti, inserire nel futuro bilancio previsionale della regione Molise una posta finanziaria dedicata a queste esigenze, penso ai medicinali, penso alla sussistenza, ai ricongiungimenti che vanno supportati attraverso i piani sociali. Ancora siamo sicuri che nelle scuole ci saranno dei bambini che andranno inseriti, come accompagniamo l'inserimento. Nell'università possiamo dare delle borse di studio? Ecco, sono tante proposte concrete per far bene in un momento in cui loro stanno molto male. Noi li accogliamo a braccia aperte. L'altro versante sul quale il Consiglio impegna il Presidente Toma nella veste di commissario delegato per l'emergenza è quello nazionale, ovvero di un intervento sul governo teso a sostenere i contraccolpi economici del conflitto in corso. Sulle misure nazionali chiaramente c'è il tema delle imprese più colpite dall'export, del caro energie, quindi le misure che l'Unione Europea sta predisponendo soprattutto per i paesi più colpiti dalle sanzioni. Quindi sosteniamo la visione nazionale che aiuta il sistema paese in questo momento e siamo quindi molto vicini anche alle nostre aziende, alle nostre esigenze, ai problemi dei rincari delle bollette e quindi anche su quello diciamo all'Unione Europea e allo Stato italiano di fare presto. Flashmob questa mattina degli alunni e del personale della scuola primaria di Matrice. Presente anche la dirigente Rita Massaro. Diamo una mano alla pace il titolo della manifestazione promossa dalla rete di scuole NetSchool4Peace. una riflessione su quanto sta accadendo in Ucraina e un momento per ribadire il no del mondo della scuola alla guerra affinché si trovi un accordo che faccia tacere le armi che hanno già provocato tanti morti. Un flashmob durante il quale sono risuonate le note della canzone di John Lennon, Give Peace a Chance, come vedete da queste immagini tanti bambini con i palloncini gialli e azzurri, gialli e azzurri, i colori dell'Ucraina appunto. Da un anno la carreggiata ridotta sulla statale 17 Isernia-Campo Basso nella salita che porta a Castelpetroso. Numerosi disagi e anche due incidenti mortali. Il malcontento è diffuso e la domanda che tutti si fanno è perché ancora è tutto fermo. Sentiamo Enzo Di Gaetano. È passato oramai un anno e ci sono stati ben due incidenti mortali su quel tratto di strada, ma di ripristino della viabilità sull'intera ampiezza ancora non se ne parla. Si tratta della statale 17 tra Isernia-Campo Basso nel tratto di strada Trecorsie che si arrampica fino a costeggiare il santuario di Castelpetroso e poi scende verso il bivio di Santa Maria del Molise. Ebbene quella strada che potrebbe anche essere un abbozzo di superstrada se fosse rimasta a tre corsie, da un anno è stata ridotta a sole due corsie con grossi disagi per gli automobilisti che spesso rischiano sorpassi azzardati e provocano frequenti incidenti. La strada è trafficatissima perché collega a Campo Basso il Molise a Isernia-Venafro e di conseguenza a Lazio e Campania quindi è facilmente immaginabile il numero di auto e tir che quotidianamente la percorrono. In salita, se si ha la sfortuna di procedere dietro un tir a causa della notevole pendenza, si procede a passo di Lumaca chiaramente in tanti rischiano il sorpasso invadendo la corsia opposta, percorsa dagli automezzi che scendono e insomma è molto pericoloso e gli incidenti lo testimoniano. Però l'ANAS, cui spetta ripristinare la viabilità da oltre un anno non avvia i lavori il perché resta sconosciuto e gli inconvenienti restano irrisolti con tante proteste. I primi mesi della chiusura sono stati ancora più a rischio perché invece della segnaletica in plastica per il restringimento della corsia c'erano dei blocchi di cemento abbastanza pericolosi. È passato un anno da quando il Dipartimento dell'ANAS Molise, Abruzzo e Lazio comunicava che durante le attività ispettive delle opere d'arte presenti lungo le strade statali di competenza è emersa la necessità di effettuare maggiori approfondimenti per il viadotto tra il km 186 e 500 e il km 188 della statale 17. Per svolgere le attività di verifica tramite l'utilizzo del buy bridge si è reso necessario attuare un restringimento di carreggiata. Sul viadotto verranno effettuati lavori di manutenzione per un importo di 800 mila euro entro la fine del corrente anno e parliamo del 2021. Il 2021 intanto è finito da un pezzo ma dei lavori non si vede traccia. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Campobasso hanno sequestrato una discarica abusiva di 3.500 tonnellate di terra e rocce da scavo tra termoli e campo marino. Sono rifiuti speciali gestiti in maniera illecita secondo quanto accertato dai militari su 3.000 metri quadrati di area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. Il rappresentante legale di un'azienda che opera nell'autotrasporto dei rifiuti e nel movimento terra è stato segnalato per realizzazione e gestione di discarica abusiva e distruzione e deturpamento di bellezze naturali. 21 mezzi pesanti per il trasporto merci controllati e 15 infrazioni rilevate dalla Polizia Stradale di Campobasso sull'A14 in territorio di Montenero di Bisaccia nel complesso sono state elevate sanzioni per 10.000 euro. Il controllo si è svolto nell'ambito della collaborazione tra Ministero dell'Interno e Ministero della Mobilità Sostenibile con l'obiettivo anche di contrastare la concorrenza sleale che deteriora il settore dell'autotrasporto già in forte crisi per l'aumento dei costi del carburante. Multe meno care sui termini di revisione delle caldaie lo stabilisce un progetto di legge regionale approvato dalla seconda commissione che presto arriverà in aula. Sanzioni dai 200 ai 600 euro massimi per chi non è in regola prevista anche una proroga dei termini di revisione. Sentiamo Pasquale Di Bello. Arriverà a breve nell'aula del Consiglio regionale un provvedimento atteso da tempo da migliaia di cittadini e famiglie. Stiamo parlando dell'annosa questione della revisione caldaie diventata una tagliola per migliaia di persone trafitte come San Sebastiano dalle frecce acuminate di multe e sanzioni. È stata approvata all'unanimità dalla seconda commissione consigliare una proposta di legge della Giunta regionale con la quale vengono drasticamente ridotte le sanzioni in essere dagli originari 1.500 euro ai 200 di minima e 600 di sanzione massima previsti dalla nuova normativa che tra le altre cose prevederà una proroga dei termini di revisione attualmente previsti in scadenza al 31 gennaio e che secondo le previsioni slitteranno al 31 marzo. La vicenda si trascina da tempo e pendono sul tema oltre 5.000 ricorsi di cittadini colpiti da quello che viene comunemente avvertito come l'ennesimo giro di vite sui contribuenti. Soddisfazione sugli esiti raggiunti è stata espressa dai consiglieri regionali Vittorio Nola del Movimento 5 Stelle e Aida Romagnuolo di Fratelli d'Italia. Insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle dice Nola proporrò un'ulteriore modifica alla proposta di legge a nostro avviso conclude il consigliere Nola gli accertamenti dovrebbero riguardare solo l'ultimo anno solare evitando così sanzioni cumulate. Questa era e resta una battaglia di buonsenso alla quale ho sempre creduto invece il commento di Aida Romagnuolo ed è un risultato raggiunto non solo dalla sottoscritta ma da tutti i cittadini molisani. Questa mattina in questura a Campobasso il ricordo del medico Alfredo Lestini scomparso un anno fa a causa del Covid per l'occasione è stata intitolata la sala medica dell'ufficio sanitario provinciale. Sentiamo Alessandra Potena Esempio di valore attaccamento alla polizia e spiccate doti professionali è così che i colleghi hanno ricordato il dottor Alfredo Lestini medico superiore della polizia di Stato nel primo anniversario della sua morte avvenuta a causa del Covid per l'occasione la questura di Campobasso è intitolato la sala medica dell'ufficio sanitario provinciale all'interno della scuola allievi agenti Rivera al collega presente il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio e il direttore centrale di sanità Fabrizio Ciprani è stato un esempio perché ho conosciuto Alfredo da quando è entrato in polizia è stato sempre veramente un professionista preparato e soprattutto da un punto di vista umano quello che si chiede a un medico l'accoglienza la disponibilità il nostro motto esserci sempre credo che sia stato pienamente incarnato da Alfredo quindi è stato veramente un onore averlo avuto tra i nostri ranghi e questo esempio come ho detto ce lo porteremo un po' tutti quanti dentro la polizia di Stato è una famiglia noi siamo uniti dal vincolo del giuramento ma siamo uniti dal vincolo della fratellanza ho detto prima nelle mie parole il medico Lestini ha dato la umanità vera di un medico perché un medico prima della terapia deve dare l'amore deve dare la parola di conforto Lestini è stato uno di questi a celebrare un legame nato nel 1993 anno in cui Lestini prese servizio a Campobasso la moglie alla quale è stato consegnato il decreto dell'intitolazione il prefetto di Campobasso Antonio Cappetta e l'arcivescovo Bregantini per la benedizione è tutto termina qui il nostro TG delle 14 dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea come sempre ai colleghi dello sport noi ci rivediamo intorno alle 15 per il TG Flash buon pomeriggio a l'arcivescovo